Musica Si avvicina al termine per il pagamento della prima rata della Tasi ed arriva anche una buona notizia per gli inquilini delle case popolari che non dovranno pagare la nuova tassa sulla casa Sono oltre 5.000 le prostitute sulle strade di Milano e provincia molte di loro costrette con violenza da organizzazioni criminali e la Caritas ha riunito un convegno questa mattina con delle proposte per aiutare le vittime del racket Parte il restyling delle porte vinciane per Expo Si tratta del restauro dell'opera leonardesca che fa parte del più ampio piano di riqualificazione della Conca dell'Incoronata di via San Marco sui navigli a Milano Buonasera e buonasera anche dalla TGN Benvenuti a questa edizione, lo avete sentito dei titoli e lo saprete Il 16 ottobre scade il termine per il pagamento della conto della prima rata della Tasi La nuova tassa sulla casa, ebbene c'è una notizia che riguarda tutti gli inquilini delle case popolari Sapete che la Tasi la pagano anche gli affittuari Ma chi abita nelle case popolari non dovrà pagare la Tasi La notizia, almeno questa è una buona notizia per chi abita nelle case appunto del comune Ma sentiamo Alberto Carreras Dopo giorni di discussioni è arrivata la decisione da molti auspicata Gli inquilini delle case popolari saranno isentati dal pagamento della quota della Tasi La nuova tassa sulla casa, prevista per chi vive in alloggi in affitto L'annuncio arriva da Palazzo Marino e di fatto sblocca una situazione che poteva diventare assai intricata L'assessore Francesca Balzani ha puntualizzato che la normativa nazionale sulla Tasi Ha equiparato gli alloggi popolari alle prime case per evitare il pagamento dell'Imu In questo modo però gli inquilini devono pagare la Tasi con aliquota al 2,5 per mille E cioè più alta della tassazione precedente I sindacati inquilini sono insorti e ci sono state prese di posizione del mondo politico Morale ieri la decisione di Palazzo Marino Che ha annunciato che gli inquilini delle case popolari non pagheranno la Tasi Adesso si attende l'approvazione della relativa delibera di giunta Ricordiamo che la contotasi dovrà essere versato entro il 16 ottobre Manca dunque solo una settimana Chi pagherà in ritardo dovrà accollarsi una sanzione che varierà a seconda dei giorni di ritardo Non arriva a casa alcun bollettino Bisogna farsi i calcoli da soli o presso un CAF o un commercialista Occorre avere la rendita catastale Il sito del Comune di Milano dà un aiuto a quanti seguiranno il fai da te Chi è in affitto pagherà il 10% dell'importo Il resto è a carico del proprietario Si paga con il modello F24 in una rata unica entro il 16 ottobre Oppure il saldo può essere pagato entro il 16 dicembre Sempre dal Comune è giunta notizia che stanno per arrivare i bollettini della Tari Tassa sui rifiuti a quanti per vari motivi non erano stati spediti Si tratta di circa 170.000 persone a Milano Vedremo se arriveranno a tutti Adesso la cronaca Parliamo dell'omicidio di Via Adriano L'omicidio di cui abbiamo parlato lunedì scorso Bene, faceva troppo rumore Questo sarebbe il motivo per cui è scoppiata la lite Che è portato alla morte di Mustafa Il marocchino di 30 anni trovato senza vita domenica sera davanti all'ex istituto Achille Grandi in Via Adriano Lo ha raccontato alla squadra mobile Adil Lanbar Un connazionale di 29 anni arrestato ieri sera per l'omicidio L'extracomunitario irregolare con precedenti per rapina nel 2013 Ha confessato agli investigatori di aver spinto la vittima dalla finestra al secondo piano dell'ex scuola Durante una lite iniziata per banali motivi amplificati dall'alcol Ieri era stata effettuata l'autopsia sul corpo della vittima E il medico legale aveva stabilito che l'uomo era deceduto a causa di fratture costali Causanti la lesione del polmone sinistro con versamento di sangue Inoltre l'analisi ha riscontrato echimosi e ferite in varie parti del corpo Compresa una frattura al lato sinistro del bacino Cambiamo argomento Ci sono oltre 5.000 prostitute sulle strade di Milano e provincia Un fenomeno che purtroppo non accenna a terminare ma anzi è in espansione Sono soprattutto donne africane o dell'est Europa E molte di loro sono costrette con la violenza a fare quello che fanno da organizzazioni criminali La Caritas Ambrosiana oggi ha organizzato un convegno a Milano E ha avanzato proposte anche per aiutarle La prostituzione sta diventando un'emergenza per Milano e provincia La diffusione è in costante aumento Secondo i dati più recenti nel capoluogo Lombardo e nell'immediato Interland Sulle strade ci sarebbero almeno 5.000 prostitute Un dato che può non essere preciso ma per difetto Si tratta per lo più di giovani provenienti da Romania, Albania e dal Nord Africa Costrette a lavorare sulla strada da vere e proprie organizzazioni criminali Che esercitano sulle ragazze ogni forma di violenza e segregazione Del problema ne hanno discusso politici, ricercatori, universitari e associazioni In un incontro organizzato dalla Caritas Ambrosiana a Palazzo Marino Tra le proposte quella della creazione di un'agenzia nazionale antitratta Per aggredire le organizzazioni criminali che sfruttano le donne La disperazione, la ricerca di condizioni di vita migliori Ha fatto sì che appunto molte ragazze Anche illudendosi di poter trovare una soluzione ai loro problemi di partenza Sono arrivate nei nostri territori, nei nostri paesi Appunto con l'idea, con la speranza di poter avere un lavoro dignitoso E sono finite appunto il meccanismo di racket dal quale fanno estremamente fatica ad uscire Noi proponiamo intanto interventi di rete istituzionali Perché ci devono essere delle risorse per poter recuperare tutte le donne Che vogliono effettivamente avere un'alternativa al fatto che devono obbligatoriamente prostituirsi E questo rimane un aspetto molto difficile perché in assenza di risorse Non è possibile che ogni singola regione, ogni singolo comune Si muova alla ricerca di qualche soluzione A volte anche semplicemente demagogiche Per un puro scopo elettoralistico Alla base c'è la disperazione? Alla base di queste ragazze certamente c'è la disperazione Nel senso del desiderio di avere una speranza nuova Una speranza di futuro Che però viene intercettata in maniera assolutamente inaccettabile Da queste organizzazioni criminali Ancora cronaca, una vicenda curiosa Una pensionata originaria di Bari Ha cercato di eludere i controlli doganali Alla stazione ferroviaria di Chiasso Dichiarando di avere con sé solo 2000 euro I militari però si sono insospettiti da un rigonfiamento Dopo aver fatto scendere la donna dal treno Che proveniva da Lugano e arrivava fino a Milano L'hanno fatta andare negli uffici della Dogana Per controllarla Durante il controllo la pensionata ha ammesso di avere con sé circa 50.000 euro Ha consegnato un totale di 52.700 euro Del denaro trasportato illecitamente Ovvero quello eccedente di 9.990 Che è la cifra entro la quale si può appunto trasportare dalla Svizzera È stato sequestrato al 50% Tutto questo in attesa che il Ministero dell'Economia Definisca la sanzione da applicare al trasgressore Oggi variabile dal 30 al 50% Della somma trasportata irregolarmente Adesso parliamo delle nozze gay Sapete che i sindaci tra cui anche Pisapia aveva intenzione di farlo O almeno gliel'aveva chiesto il Consiglio Comunale Di trascrivere le nozze gay stipulate all'estero Nelle città anche in Italia Il Ministro dell'Interno Alfano Con una circolare ha detto che questo non si può fare Invitando i prefetti a non farlo Bene ci sono le prime reazioni Alla decisione appunto del Ministro Alfano Ha parlato oggi Hanno parlato sia Riccardo Decorato Sia Matteo Salvini Decorato ha detto al primo matrimonio gay Che Pisapia trascriverà Noi faremo ricorso al prefetto Il registro è illegale Non ha valore Qui non si tratta di idee diverse Ma si tratta di legge Appunto Decorato dice Se il centrosinistra ci tiene tanto Vada da Renzi a Roma E gli chieda di fare una legge Ha parlato anche il leader della Lega Matteo Salvini O rispetto le scelte di chiunque Dice Salvini O una persona può essere gay Eterosessuale o bisessuale Non mi interessa Se io fossi il sindaco di Milano Al posto di Pisapia Non farei la trascrizione dei matrimoni gay Celebrati all'estero Sono pronto a discutere di diritti Ma il matrimonio è solo tra un uomo e una donna In questo caso seguirei dunque Le indicazioni del ministro Alfano Quindi vedremo se alla fine Pisapia farà come alcuni sindaci Che hanno detto che non si faranno Intimorire ad Alfano E quindi loro proseguono con le trascrizioni O se invece Pisapia Non effettuerà le trascrizioni Continuiamo a parlare di Milano Perché partono i lavori Per il restauro delle chiuse Della conca dell'incoronata Dove un tempo scorrevano le acque del Naviglio In via San Marco a Milano Questa mattina c'è stata la presentazione Dell'opera di restyling Da parte dell'assessore ai lavori pubblici Carmela Rozza Sentiamola Parte questa importante riqualificazione Sì, io voglio ringraziare Navigli Lombardi Perché grazie alla capacità di Navigli Lombardi La volontà di acquisire e trovare sponsor Per fare questa importante opera di restauro Ci permetterà per Expo Di presentare la conca Come un sito importante Delle opere idrauliche di Leonardo E questo permetterà di offrire Alla città di Milano E a tutti i turisti che verranno E al mondo La capacità di Milano Di salvaguardare L'importante storia idraulica Dell'ingegnere in questo caso idraulico Leonardo E contemporaneamente di permettere Di fruire un pezzo di storia Andando in giro per la città Al mondo E credo che la collaborazione che c'è stata Tra il Comune di Milano E Navigli Lombardi È la dimostrazione Che quando le amministrazioni pubbliche Superano le differenze politiche E vanno direttamente al bene della città Si possono fare belle cose Senza litigare Anzi amando la nostra città E portando avanti la bellezza della città Che non ha colore politico Abbiamo fatto una ricerca di sponsor Un restauratore Chiesto proprio dalla sovrintendenza Visto il tipo di manufatto Che stiamo andando a restaurare E tramite questo restauratore Siamo riusciti a trovare il Cessler Che si occuperà appunto Che è proprio il centro di ricerca sul legno Che si occuperà del restauro Torniamo alle notizie Che hanno causato Scalpori in questi giorni Una è quella delle nozze gay Di cui abbiamo parlato E l'altra è la decisione delle aree Per istituire i luoghi di culto E quindi anche la moschea a Milano Ebbene in parallelo a questo In Consiglio regionale Parte una legge per limitare le moschee Con la nomina del relatore Nella persona di Roberto Anelli La Commissione territorio Del Consiglio regionale Lombardo Infatti ha avviato formalmente L'esame del progetto di legge Per limitare con regole urbanistiche stringenti La possibilità di aprire Nuovi luoghi di culto musulmani sul territorio Una proposta in cui la Lega Chiede di confermare anche l'obbligo Di un referendum consultivo Su ogni singola iniziativa Che è di fatto un tentativo Di porre un freno All'apertura di moschee Tra i primi e commentare Con una nota alla via dell'iter L'assessore al territorio Lombardo Beccalossi Secondo la quale aprire una moschea Oggi è una scelta Con conseguenze politiche e sociali Per questo non può essere demandata Alla decisione del singolo E deve avvenire Tenendo in considerazione Gli aspetti legati alla sicurezza E all'ordine pubblico Non sappiamo se questo poi Influirà in qualche modo Nella decisione del Comune di Milano Di realizzare un bando Proprio per la costruzione delle moschee E parlando ancora di Milano Dopo il successo del car sharing Milano lancerà anche lo scooter sharing Che sarà inaugurato Nella prima parte dell'anno prossimo Per essere pieno regime per Expo Lo ha annunciato L'assessore alla mobilità Pier Francesco Maran Alla presentazione Della prossima esposizione mondiale Del motociclismo Il bando sarà pronto Entro la fine dell'anno E per le due ruote Si prevede che ci sarà Una flotta di circa Mille moto In circolazione appunto A Milano Per circolare su queste moto Il Comune comunque non chiederà un canone Alla società che appalta il servizio Ultimo pagina Il Cardinale Dionigi Tettamanzi Pubblica per l'edizione San Paolo Un volume del titolo Il Vangelo della Misericordia Per le famiglie ferite E si riapre con forza Anche da parte dell'Arcivescovo Emerito di Milano La questione dei sacramenti Per i divorziati e risposati Nel momento del sinodo Della famiglia Anche se il libro In edicola Con questo numero di famiglia cristiana Propone uno sguardo molto più ampio Sulla società di oggi La sentiamo Anna Maria Braccini Una personale partecipazione Di riflessione di preghiera Al cammino che la Chiesa sta compiendo Così il Cardinale Tettamanzi Definisce il volume Edito in questi giorni per San Paolo Con un titolo che già da solo Dice molto Il Vangelo della Misericordia Per le famiglie ferite 170 pagine per uno sguardo A 360 gradi Sulla società attuale Sulla famiglia appunto Spesso ferita In difficoltà O semplicemente disorientata Allargata Con nuovi parametri E nel momento in cui Si celebra il sinodo straordinario Sui temi scottanti Della condizione familiare oggi E' chiaro che questo sia il tema Su cui si punta l'attenzione Certamente quella dei media Con interviste ampie Come quella concessa oggi Al Corriere della Sera Nella quale l'arcivescove Merito di Milano Che vive ora a Triugia In Brianza Torna a sottolineare Le tre condizioni Come le definisce Per un'eventuale ammissione Ai sacramenti Delle Eucaristie E della confessione Di divorziati risposati Assumere dei sacramenti stessi Il loro significato Di segni Della misericordia di Dio Evitare confusione Indebite Sul concetto Dell'indissolubilità Del matrimonio Impegnarsi in cammini Di riscoperta della fede Con una sorta Di iniziazione cristiana Degli adulti E di formazione permanente La dottrina della chiesa Insomma c'è Ed è ribadita Ma forse Qualche piccola apertura Si sente D'altra parte Molti ricordano ancora La splendida lettera Inviata nel 2008 Agli sposi In condizione Inparazione Divorzi O nuovo matrimonio Anche allora Non mancarono Le discussioni Ma la logica Di fondo Che muove Il cardinale Tettamanzi È sempre la stessa Avere Lo ha spesso detto Rispondendo Anche alle critiche Per un suo Presunto progressismo Come bussola unica Il Vangelo E la misericordia Di Dio Così Dal 2002 Al 2011 Ha guidato La complessa Chiesa Ambrosiana E così Oggi Continua la sua Predicazione Quale Saggio E ci perdonerà Anziano Vescovo Qualche appuntamento Tornano domani Gli stati generali Dello sport milanese L'appuntamento Per venerdì Appunto Presso lo stadio San Siro Dalle 14 alle 19 Con la seconda edizione Di Sport e Polis Nella scala del calcio Si danno appuntamento Tutte le realtà sportive Cittadine Ci sono ospiti D'eccezione Come Demetrio Albertini E Javier Zanetti Ci sarà anche L'assessore allo sport E benessere Chiara Bisconti Mentre invece Sempre domani Doppio appuntamento Al Darsena Center Nuovo spazio pubblico Del comune Che si trova In Viale Gorizia Alle 17.30 Lo spettacolo Per bambini Dei 5 anni Sherlock Holmes Il mistero Dei rifiuti E poi alle 21 Il primo appuntamento Del ciclo Di concerti Jets Organizzati Con la direzione Artistica Di Sergio Israel E domenica Invece I ragazzi Saranno in gara A Milano Nella Corsa Della Speranza Per raccogliere fondi Da destinare Alla cura Dei bambini affetti Da tumore Domenica 12 ottobre Come sempre i proventi Verranno destinate A favore Dei bambini oncologici La quota di iscrizione È di 10 euro Partenza Alle ore 10.30 Da via palestro Tutte le informazioni Sul sito www.lacorsadellasperanza.org A Milano si corre Questo lo stiamo vedendo Si corre sempre di più Sta diventando una tradizione In questo caso In questa Corsa Della Speranza C'è davvero Un contenuto fortissimo Quindi quello che Sanno fare bene I milanesi E le milanesi che corrono È correre per il loro benessere Per la loro gioia Ma farlo anche Quando ci detono Una causa così importante Sarà quindi Tante persone Che con un gesto semplice Io lo ricordo sempre Il gesto più naturale Mettersi le scarpette E andare Lo faranno per sostenere Chi ha davvero bisogno E mi piace anche molto Vedere come questa Corsa Che ormai è entrata Nella tradizione milanese Si rinnovi Si introduca elementi di novità C'è questa Corsa breve Per i bambini Che è davvero Forse la cosa più simbolica Che piace ricordare E quindi un ringraziamento Di cuore A chi organizza La Corsa della Speranza A chi la corre E Milano Le istituzioni ovviamente Sono sempre presenti Quando la cosa è così bella Ma è così importante Speriamo che siano in tanti A partecipare Era l'ultimo servizio Io vi ringrazio Per la vostra attenzione Vi ricordo che dopo La sigla E la pubblicità Ci sono come al solito Le previsioni del tempo E puoi seguire Nuova Stadio Sprint Con Michele Marchetti E i suoi ospiti Vi auguro una buona serata Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.